Musica Ecco la social dieta perfetta! Alla mattina una carica di musica con SushiFy per iniziare la giornata. All'intervallo mattiniero un paio di messaggi con Whatsacqua per sapere come va. A pranzo posto foto su Nutellagram. Nel pomeriggio guardo dei video su YouTootine. A cena un altro po' di Nutellagram per finire la giornata e restare socialmente in forma. Per una dieta equilibrata vi consigliamo di seguire queste indicazioni. Al mattino un bicchiere di Whatsacqua. Se volete cucinare in lasagna store, aprire la porta della cucina, sbloccare il frigorifero, scegliere l'app da utilizzare e stenderla nella home del telefono. Per preparare la Nutellagram, far scegliere gli ingredienti al pubblico. Scattare una foto che catturi l'essenza di nocciole di ognuno di noi. Accettare le richieste di cacao. Aggiungere color filter per renderla più colorata e migliorarne la qualità. Si riempie la pentola d'acqua e si fanno scorrere le notizie verso il basso. Si fanno bollire, vi piace e poi si aggiunge un commento salato. A pranzo non più di un piatto di spuga. Attivare la versione premium per ottenere la farcitura e comporre tanti strati avanzando di livello. Successivamente infornare mettendo in carica il telefono e quando il telefono raggiunge il 100% rimuovere dal forno la lasagna store. Whatsacqua è essenziale e l'accusare quando vuoi. Ci sono diversi tipi di chat. Ecco neanche gli esempi. Chat brio blu, mi piaci tu. Chat letter, chat della famiglia. Poi si butta in condivisione dopo la cottura del messaggio. Scola gli insulti e infine condisci con le altre applicazioni. Così si crea il passbook. A merenda un po' di snap-tine. E decidere se ricucinarla cambiando gli ingredienti. Chat frizzante, ferrarelle, silitica. Chat trucchetta, ci si sfoga per depurarsi in maniera non consapevole. Aggiungere lo zucchero e attendere dei dolci conventi. Emulsionare con i diversi hashtag dentro una planetaria capiente. Chat Norda, non conosci le persone ed è freddo. Conservare la foto nel proprio profilo e mettere la data di scadenza. Chat è la casa dell'acqua, fai da te. Mangiarla stando attenti alla amore. Aspettare 24 ore per vedere se la foto è stata digerita. Può creare dipendenza. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Hop hop. Grazie per averci seguito.